E viviamo in un'epoca in cui le notizie sono il pane quotidiano secondo chi dirige giornali, televisione, scienza, scuola e politica. Sembra che se non ti alzi al mattino con il telegiornale, se non leggi le ultime notizie, sei tagliato fuori dal mondo. In realtà tutta questa informazione poi è incompleta e i fatti lo dimostrano. E allora per evitare di cadere nella trappola della propaganda ti passo alcune indicazioni pratiche. La prima cosa da fare appunto per evitare i trannelli della propaganda è questa. Accetta una notizia quando la fonte è verificabile. Anche se lo dice il telegiornale, la televisione e i 55 quotidiani, domandati la notizia è verificabile da te adesso o devi credere alla parola di qualcuno. Elimina generalizzazioni e opinioni di parte. Quindi se il segretario o il presidente o lo scienziato immaginano che, tu non prendere in considerazione la notizia. Quelle sono considerazioni loro, private, che non devono assolutamente turbare la tua serenità. Chiarito questo, il passaggio successivo è un invito a scoprire quali sono gli interessi di chi ti dà la notizia. Ricordati che per gestire una televisione, per gestire un giornale, per organizzare un servizio che si sviluppa negli anni in paesi che sono in guerra, ci vogliono soldi. Soldi, soldi, soldi e quelle persone che ti danno queste notizie non lo stanno facendo per beneficenza. Allora scopri quali sono gli interessi di chi ti dà la notizia. Per chi lavora quella persona e soprattutto in quale disegno più grande è inserita quella persona? E chi dirige il tutto? Non considerare soltanto le parole della notizia che quella persona ti espone, considera anche il portavoce e capisci qual è il disegno più grande che sta dietro la notizia. Domandati dove ti vuole portare chi ti dà la notizia? Perché lo scopo è quello portarti da qualche parte? Non organizzano telegiornali che costano milioni e milioni di euro? Se tu pensi a quante persone lavorano, quanto costano gli impianti e tutto questo sarebbe gratuito? Evidentemente c'è un'intenzione e allora domandati dove ti vuole portare chi ti dà la notizia. Quali sentimenti vuole suscitare in te? Quali vantaggi ti prospetta? guarda che un sentimento è un prodotto secondo la propaganda. Perché? Perché in un telegiornale ti deprimono, ti dicono che le cose sono brutte e ancora più brutte e ancora più brutte e poi cosa succede? E poi c'è la pubblicità. Così tu dopo che sei entrato in uno stato di depressione e sei più debole e pronto ad accettare il primo messaggio positivo, qual è il primo messaggio positivo che senti? Compra questo prodotto. Quindi il sentimento è un prodotto. È un prodotto che serve a vendere un altro prodotto. Il sentimento depressione, prodotto da chi ti dà la notizia deprimente, serve per venderti qualcosa. Quali vantaggi ti prospetta la notizia? La notizia in sé probabilmente non ti prospetta nessun vantaggio, perché se ti informano che un certo paese dispone di 500 missili, tu cosa puoi farci? Come cambia la tua esistenza oggi? Non succede niente nella tua esistenza. Quali sono i vantaggi che ti prospetta la notizia dei missili? Indirettamente, ma in modo molto consistente, la notizia del malessere del mondo ti prospetta un'automobile nuova, perché dopo il malessere del mondo propagandato, ecco la pubblicità dell'automobile, ecco la pubblicità della lotteria, ecco la pubblicità del nuovo deodorante. Quelli sono i vantaggi. Allora domandati, dove ti vuole portare chi ti dà la notizia? Non imitarti a guardare la notizia, la persona che la racconta, ma considera l'intero spettacolo all'interno del quale è inserita la notizia. Cerca conferma dei dati usando almeno un'enciclopedia. Il giornalismo di oggi è molto veloce nell'esporre i dati, prende un dato, lo gonfia, lo riporta, lo copia e lo trasforma e non si verifica l'essenza. Allora ti consiglio di cercare conferma dei dati usando almeno un'enciclopedia. Almeno una, meglio se ne usi due, meglio se conosci l'inglese e puoi accedere a un più vasto numero di dati. Usa internet, usa l'enciclopedia di carta. Se occorre, se la notizia è veramente importante, prendi degli appunti a proposito della notizia. E vai in biblioteca, consulta dei libri fatti guidare dal bibliotecario. Se la notizia è veramente importante, cerca conferma dei dati usando dei testi autorevoli. Investiga, collega altri dati, estendi la ricerca con mente aperta. Abbiamo detto che la propaganda vuole venderti il deodorante, quindi ti raccontano che in Africa ci sono bambini che muoiono di fame, così tu stai male e cambi l'automobile. Questa è la logica dello spettacolo della notizia triste. Per evitare i trenelli della propaganda, investiga. Collega altri dati. Parliamo dell'Africa. Perché l'Africa ha dei problemi? Qual è la storia? Cos'è successo? Estendi la ricerca con mente aperta. Non pensare ai bambini che muoiono oggi come se fossero arrivati oggi. Porta alla luce tutto ciò che sta dietro. Scopri che cosa non ti viene detto nella notizia e perché. Un tranello molto terribile della propaganda è questo. Viene acceso un riflettore molto molto forte che illumina un pezzettino della notizia e tu vedi che cosa. Vedi il pezzettino illuminato. Non ti viene detto cosa sta dietro? E perché non ti viene detto? Questo devi scoprirlo tu perché chi ha detto soltanto un pezzo, forse abbastanza impreciso, non verrà certo a spiegarti perché ti riporta la notizia in modo incompleto. Allora tocca a te agire. Trova i dati mancanti e capisci perché sono stati omessi. In questo tu sei molto più abile di chi dirige la propaganda perché chi dirige la propaganda, chi costruisce il pacchetto notizia triste uguale tu compri il prodotto, non è pronto per agire con mente aperta. Si sta nascondendo, fa di tutto per bloccare l'informazione, per bloccare la tua intelligenza. Quando tu invece agisci per trovare i dati mancanti stai facendo qualcosa di vitale. Capisci perché sono stati omessi? Tu ti puoi muovere in tutte le direzioni ma la propaganda no. La propaganda è lì che sta cercando di nascondere la verità. Tu invece puoi andare in giro con la tua intelligenza, con il tuo intuito e trovare i dati mancanti e così capisci perché sono stati omessi. Assegna alla notizia un valore determinato dalla tua etica. Ti possono anche raccontare che sono le ultime notizie, che l'ha detto l'ONU, che l'ha detto il grande capo di tutti i presidenti, di tutti i mondi, l'importante è che la notizia sia etica. Se la notizia non è etica, non è importante. Potrebbe essere una notizia tragica. Possono dirti che è stata organizzata una nuova guerra. Possono dirti che tu devi pagare per sfinanziare quella guerra. Possono dirti che tu sei l'oggetto di quella guerra. Questo è terribile, ma non è etico. Quindi non è importante nella tua esistenza. Se tu sei coinvolto in un'altra guerra, è una grande scocciatura, è una cosa terribile, ma non è etico. Non è una notizia che cambia il senso della tua vita. Quindi assegna tu il valore alla notizia. E come lo assegni? Lo assegni in base all'etica. La notizia ha un valore rispetto alla tua etica. Quanto più la notizia migliora la tua etica, tanto più è importante. Sei tu che decidi qual è la prima notizia, quale va conservata, quale va ricordata, quale va approfondita. Lo capisci dal tono della notizia. Capisci qual è l'argomento e questo ti aiuta a evitare i trannelli della propaganda. E infine, ti consiglio questo. Rimani al centro della tua visione spirituale del mondo. Noi ci occupiamo di miglioramento personale, qualità della vita. La qualità della vita la coltivi tu quando amministri i tuoi pensieri, quando gestisci pensieri negativi, quando impedisci che pensieri negativi entrino nella tua mente e quindi parliamo anche della propaganda. Perché tra i nemici della tua mente ci sono anche i trannelli della propaganda che vogliono buttare spazzature allì, nella tua visione. Ebbene, tu rimani al centro della tua visione spirituale del mondo, la tua visione luminosa. Quello è il senso della vita. Siccome tu ti occupi di miglioramento personale, siccome tu vuoi creare una vita di successo, tu stai agendo in modo etico. Questo è corretto, questo è legittimo, questo va d'accordo con la vita stessa e allora, al di là di tutte le notizie catastrofiche, rimani al centro della tua visione spirituale del mondo. Al di sopra delle notizie che non migliorano la qualità della vita. Da una parte può esserci tutto l'apparato della propaganda, dall'altra ci sei tu. Qual è la parte giusta? Quella che esprime la vita, quella che esprime amore, verità e bellezza. Rimani dalla parte dell'etica, rimani al di sopra di tutto ciò che non migliora la qualità della vita e soprattutto agisci per rendere l'esperienza sulla terra meravigliosa per te, per gli altri esseri umani e per tutti gli esseri di luce, di gioia, di ingegno che frequentano la terra.